ok ragazzi se eravamo nella storia prima per i primi video del ragnetto come youtuber italiani adesso entriamo nella storia come primi youtuber italiani vedete bene qua ci sono le lol proviamo ragazzi speriamo di uscire un ragnetto è vero e siamo l'entocento commerciale si trovano no il primo tiro è andato a vuoto per cercare la wave 2 la disperazione ovviamente ovviamente c'è sappiamolo benissimo credo che costano 27 euro quindi ipotizziamo di avere 27 tentativi a disposizione per una certamente è un po difficile mi sa è tanto difficile non ha aggrappato neanche questa volta io ho visto alcuni che ci sono riusciti ragazzi quindi probabilmente dovremmo provare 5 tentativi per prendere una lol di altri 5 tentativi io mai avrei pensato di portare un video del genere con il ragnetto quindi portato via di brutto un tentativo via 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 e vai vai continua via via ma in teoria, in teoria, l'aveva agganciato ma non ha tirato sulle panda e la lol quindi niente, è andato a vuoto lo secondo tentativo, beh se fosse facile non metterebbero le lol dai dai mettiamoli tutte ragazzi con la scarcia lei che non riesce a prendere la palla forse il panda che è pesante bisogna cercare non sei a vuoto? è bello questo guarda qua, ti sei il ron ehi, guarda che hanno messo questo è quello che prendi tu no e il ragno, il ragno io vorrei prendere quella ma io non riesco perché non va più di danno e fare non agganciare comunque molto bene eh ovviamente, come è ovvio che sia ci siamo e si riprova ci si spera va 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 non avete capito, questo pesa più di questo ma non credo eh sì, se non te lo puoi prendere no, non ci puoi prendere no, non secondo ecology nuovo tentativo è abbastanza difficile come prevedibile in teoria vedete che l'avrebbe presa benissimo ma il ragno non aggancia non ce la posso fare andiamo avanti gli tentativi ne abbiamo ancora dai per favore uno fammelo prendere uno proviamo questo e mezzo non la tira su non la tira neanche su ma come ci sono usciti gli altri è davvero difficile è davvero difficile vorrete provare? forse lei